Torna prepotentemente di attualità l'azienda regionale Molise Acque, una struttura che negli anni purtroppo si è trasformata in un colabrodo che per restare in tema fa ormai acqua da tutte le parti, a partire dalla mancanza di un vertice. L'azienda commissariata da tempo è stata affidata dall'ex presidente della regione Frattura ad uno dei suoi collaboratori più fidati, l'ingegnere Massimo Pillarella. Sull'orlo del dissesto economico Molise Acque torna a far parlare di sé per via delle concessioni idroelettriche presenti e future rilasciate ad operatori privati che si appoggiano alla rete pubblica, ovvero a quelle infrastrutture che appartengono proprio all'azienda idrica molisana. A quest'ultima fronte di concessioni altamente remunerative per i privati va soltanto il 15% del valore della produzione di energia elettrica, una percentuale bassissima che contraddice il principio generale di redditività e di convenienza economica che dovrebbe informare la gestione di qualsiasi patrimonio pubblico. A sollevare la questione con una mozione di prossimo arrivo in consiglio regionale è stato il Movimento 5 Stelle che della questione ha informato già la terza commissione attraverso il consigliere Fabio De Chirico. Nello specifico i pentastellati chiedono di far luce su sei concessioni in predicato di essere assegnate alla società Molise Idro e una già attiva concessa per 30 anni alla Idrovatt Lombardia SRL. La richiesta indirizzata al governatore Toma è quella di sospendere e riesaminare con urgenza le istanze in corso. La vicenda delle concessioni si inserisce in un quadro generale estremamente preoccupante, tanto è vero che il presidente Toma si è già mosso per dare un vertice effettivo all'ente superando la situazione di commissariamento. In tal senso sono state già avviate le procedure per la manifestazione di interesse pubblico da parte dei soggetti interessati. Al tempo stesso sarà necessario elaborare un piano industriale che possa mettere ordine ai conti. Nella richiesta dei 5 Stelle è presente un sollecito alla regione affinché acquisisca dal collegio sindacale i dati relativi alla situazione contabile dell'azienda. L'auspicio a questo punto è che si chiudano per tempo le falle evitando così il diluvio universale.